Una vittoria importante perché ci ha portato tanto morale, si era lavorato bene in questi dieci giorni e fare una buona prestazione era importante, portare via due punti è stato oro. Può essere una piccola svolta, una chiave di volta anche per cambiare la seconda parte di questa stagione? Speriamo che lo sia, però non dobbiamo pensare che una vittoria possa bastare per cambiare tutto. Il lavoro dobbiamo continuare a fare e dobbiamo lavorare tanto in palestra per continuare questo percorso. Quanto ci credete, quanto la Lardini crede ancora che sia possibile? Io ci credo tanto, partiamo da questo punto e trasmetto alle ragazze questa mia intenzione di raggiungere la salvezza il più breve tempo possibile. Sono convinto per come lavorano le ragazze di poter dire che anche loro ci credono e ci crediamo tutti. Sente anche il peso di questa sfida, immagino che per lei sia una sfida. Sì, è sicuramente una sfida e il peso forse è minore di quello che possa sembrare. In un certo senso da questo punto in poi possiamo solo far bene, quindi siamo tranquilli. Che tipo di lavoro ha fatto da quando è arrivato? Che tipo di lavoro è servito a questa squadra? Ma forse dividiamo il lavoro in due parti. Diciamo un lavoro tecnico che è stato basato molto sulla battuta e ricezione. Abbiamo lavorato tanto sulla ricezione e anche in battuta quindi di conseguenza. E l'altro lo dico di natura mentale, psicologica, dove c'erano tante giocatrici di cui avevano bisogno di ritrovare sicurezza nelle proprie capacità.